La Compagnia Carabinieri di Agropoli si è dedicata alla diffusione della cultura della legalità secondo un progetto centrale dell'Arma dei Carabinieri, partecipando a degli incontri con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Visconti di Ogliastro Cilento. L'intervento introdotto dal Preside Vincenzo Rendina è svolto dal Capitano Fabio Lagarello, comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, e da Pasquale Formica, comandante della stazione di Ogliastro Cilento, insieme al vicario della scuola Michele Tamburrino, ha visto collegati sulla piattaforma online nella sola giornata di ieri circa 70 studenti delle classi quinta elementare e prima media, e verrà replicato ancora oggi in favore delle classi di seconda e terza media nei plessi di Cicerale e Ogliastro Cilento. Pregnano Cilento è rutino per un totale di circa 140 alunni interessati. Un coinvolgimento tecnologico al passo coi tempi ed elaborato specificatamente per poter raggiungere i ragazzi anche attraverso la modalità a distanza, accompagnato dalla visione di slide esplicative, in un percorso interattivo e digitale finalizzato a diffondere la cultura della legalità, incentrata su aspetti specifici. L'iniziativa è stata interamente indirizzata ai destinatari, dalla scelta dei temi alla formazione di fruizione. Si è parlato dell'importanza della biodiversità, la tutela dell'ambiente, l'impegno dell'arma dei carabinieri nel contrasto di fenomeni illeciti anche in questo settore, con l'illustrazione di alcuni esempi pratici per sostenere la legalità e far parte della Green Society in un territorio ricco di aree protette, su cui insiste il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Successivamente è stato trattato un secondo tema riguardante l'importanza di un utilizzo corretto e responsabile dei social network, con esempi relativi alle insidie che si nascondono nel web e risvolti della responsabilità genitoriale a tutela dei ragazzi fruitori e delle fasce più esposte.